Isola Vicentina, un uomo di 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Malo con l'accusa di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento della sua ex compagna, di resistenza e lesioni sia nei confronti dei militari dell'arma che nei confronti della donna. La coppia si sarebbe incontrata casualmente all'interno di un locale la notte scorsa, ma l'uomo avrebbe atteso l'ex compagna all'uscita per aggredirla verbalmente e fisicamente. Le richieste di aiuto della donna sono state sentite da un testimone che ha alertato i carabinieri. Allora arrivo l'uomo non si sarebbe calmato e anzi avrebbe preso a calci e a pugni sia il personale in divisa che l'auto di servizio. Immediatamente immobilizzato ed arrestato è stato portato al carcere San Pio X. Il giudice del Tribunale di Vicenza, a seguito dell'udienza di convalida questa mattina, ha applicato la misura del divieto di dimora in Isola Vicentina.